testina vediamo che funziona tutto andiamo a controllare con uno spessimetro che possono essere di due tipi con queste due lamelle un millimetro e mezzo per quanto riguarda il passaggio con la punta a riposo e 0,5 per quanto riguarda lo spessore in cui la testina schiacciata non deve permettere alla punta di far contatto andiamo a vedere in questo caso qui la testina è già a posto però andiamo a vedere cosa può succedere se una testina ha il contatto più lungo per esempio questa qui ha il contatto più lungo quindi dobbiamo andare ad agire su questo contatto qui per poterlo portare nel caso di un'elettificazione nuova al livello di funzionamento senza che una volta messa la mela da 0,5 non si accenda quindi opereremo con una lima tanto da asportare del materiale e faremo delle prove successive per vedere se avremo la distanza giusta 0,5 non avremo il segnale di accensione della testina controlliamo anche il peso quindi lo schiacciamo vediamo che la si accende la luce una volta lasciato si si spinge per cui anche per quanto riguarda il peso va tutto bene un'ulteriore cosa che possiamo controllare senza avere un tester del genere si può anche fare il controllo con un tester normale però le misurazioni sono moltiplici perché dobbiamo mettere i due contatti del tester nelle due boccole più vicine in questo modo vediamo se schiacciando la punta questa fa il contatto ma non è finito qui perché dobbiamo fare degli altri delle altre prove dobbiamo vedere se ci sono parti dell'elettrificazione della punta che vanno in contatto con la lama per cui sposteremo prima il contatto di centro sull'altro laterale e proveremo nuovamente se schiacciando la punta si ottiene nessun effetto in questo caso va tutto bene non si ottiene nessun effetto e poi sposteremo l'altro contatto che avevamo lasciato su questa parte qui al centro e andremo a controllare queste due se funziona niente e anche in questo caso va tutto bene perché non c'è nessun contatto perché a questo punto siamo sicuri anche con un tester e soltanto utilizzando i fili del tester che comunque la spada funziona funziona Grazie 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 Grazie